Ben trovati, Dragosin è andato al Tottenham agli Spurs in Inghilterra, c'era in ballottaggio il Bayern di Monaco, gli agenti del calciatore per tutta la notte hanno pensato se andare al Bayern o a Tottenham, poi il giocatore è stato molto chiaro, voglio andare al Tottenham perché la mia carriera deve essere fatta a tappe, lo hanno riferito proprio gli agenti prima di partire questa mattina alle ore 8 dall'aeroporto per arrivare a Londra dove il giocatore di 21 anni rumeno scoperto dalla Juventus a 15 anni è arrivato già lì e a ore firmerà anche il contratto dopo le visite mediche. Il calciomercato dunque porta strade infinite ma è anche la cartina di tornasole di quello che si sta verificando poi in Italia perché Dragosin manco a farlo apposta fatto esordire in Serie A e in Champions League da Pirlo, dato poi in prestito alla Salernitana e quindi all'attuale squadra italiana che prende 30 milioni, alla Juventus 5 milioni più i bonus, non si sa quali saranno i bonus, era stato inserito dalla Consob nella eventuale plusvalenza che poi ha portato all'apertura dell'inchiesta Prisma e ai punti di penalizzazione, pensate un po'. Dragosin è stato scoperto a 15 anni, è stato scambiato con Cambiaso, una ricca cessione per l'attuale club suo Ligure, il quale aveva preso Dragosin a titolo definitivo dalla Juventus nel 2022, mentre per corso opposto era stato compiuto dal terzino Andrea Cambiaso, inizialmente prestato al Bologna e da quest'anno agli ordini di Max Allegri. La Juventus lo aveva preso dal Regal Sport Bueggeresti per 260 mila Euro nel 2018, aggregandolo alle sue selezioni giovanili, prima nell'Under 16, lasciandolo poi nella Juventus Under 23 e prestandolo poi a Sampdoria e Salernitana prima del passaggio al Genova nel 2022. Con la maglia del Grifone il difensore ha conquistato la promozione della Serie B alla Serie A, quest'anno 19 presenze in campionato, condite anche da due gol e un assist e grazie alle sue prestazioni lo scorso dicembre è stato premiato come giocatore rumeno dell'anno e già nel giro della Nazionale con 13 presenze. Questa la sappiamo sta vicenda, sta storia la sappiamo di Dragosini perché lo abbiamo sempre seguito. Ma l'operazione era stata contestata dalla Consov per la plusvalenza, oggi però guardate un po', la cessione è il record per 30 milioni. L'operazione Dragosin-Cabiaso aveva portato la Consov a chiedere chiarimenti alla Juventus su una plusvalenza minima, meno di 4 milioni, per un giocatore venduto all'epoca alla Genova 5,5 milioni, più 1,8 di bonus. E oggi passato al Tottenham in un'operazione da ben 30 milioni nella luce di una crescita che colloca Dragosin tra i migliori difensori del calcio europeo. Qual era stata la risposta della Juventus al club bianconero? Gli effetti economici e patrimoniali, scriveva la Juventus, di importo non significativo sorti nell'esercizio, il bilancio 2022-2023, derivano esclusivamente ad una CD operazione incrociata. realizzata nel mese di luglio 2022, ossia la cessione al Genova dei diritti delle prestazioni sportive del calciatore Radu Matei Dragosin, per un corrispettivo di 5,5 milioni, che ha generato una plusvalenza di 3,7 milioni, cui è seguito nella medesima finestra di calciomercato l'acquisto parte di Juventus da Genova dei diritti delle prestazioni sportive del calciatore Andrea Cambiaso per un corrispettivo di 8,5 milioni e aveva spiegato il club bianconero. Quindi questa è stata la spiegazione del club bianconero. Secondo Consom, la Juventus non avrebbe potuto rilevare la plusvalenza pari a 3,7 milioni, realizzata con la cessione del calciatore Matei Dragosin e avrebbe pertanto dovuto registrare i diritti alle prestazioni sportive di Andrea Cambiaso a un valore carico inferiore di 3,7 milioni. L'effetto netto del conto economico 2022-2023 della eliminazione della plusvalenza dei minori ammortamenti e dell'effetto figurativo fiscale derivanti da tale diverso trattamento contabile sarebbe stato negativo per 2,9 milioni. Il club bianconero, confermando la correttezza del proprio operato, aveva voluto in via meramente subordinata e prudenziale valutare se l'operazione avesse i requisiti previsti dallo IAS 38 e quindi l'eventuale configurabilità di dette operazioni quali permute di attività in luogo di transazione separate e autonome. La Juventus aveva quindi voluto verificare la sussistenza del requisito della sostanza commerciale calcolando il differenziale tra i flussi prospettici in uscita associati al singolo calciatore acquisito e flussi prospettici in uscita associati al singolo calciatore ceduto, considerando anche aspetti quali la probabilità del verificarsi dell'esborso per la parte variabile della retribuzione ci sarebbero i premi. Tale differenziale tra flussi è stato poi rapportato ai prezzi di acquisto cessione di ciascun calciatore e sono state formulate le opportune considerazioni in termini di significatività. Inoltre aveva voluto verificare la sussistenza del requisito dell'attendibilità del fair value, confrontando corrispettivi pattuiti con quelli relativi ad altre operazioni di comprenentità comparabili per fascia di prezzo e omogenee in termini di caratteristiche dei calciatori ceduti, qualità e carriera, intervenute fra i club terzi a livello europeo. La Juventus inoltre sottolineava come le analisi hanno confermato che il fair value dei calciatori interessati è suscettibile sempre sulla base degli approfondimenti di natura tecnico contabile svolte dalla società con l'ausilio degli esperti contabili esteri di una misurazione attendibile. Quindi praticamente la Juventus aveva previsto questo tipo di crescita del suo calciatore. Praticamente Dragosin è stato il colpo più grande di questo mercato di gennaio fino a questo momento. Un'operazione molto interessante su una sfida del calciomercato ancora diciamo che deve prendere quota perché ci stanno facendo pochi colpi. Il duello è stato fra gli Spurs, gli Spurs come volete chiamare il Tottenham e il Bayern di Monaco ma erano pronte Milan e Napoli, più Napoli che Milan come ci hanno riferito e gli agenti a prendersi il calciatore a queste cifre fra l'altro. Il Bayern di Monaco dunque ha tentato fino all'ultimo il Milan ha messo sul piatto anche l'attaccante Lorenzo Colombo. Questo che significa? Significa chiaramente che il rilievo fatto dalla Consop sulla plusvarenza di Dragosin di cui molto si parlò l'anno scorso perché fu inserita in quelle plusvarenze che portò poi addirittura all'articolo 4, quello della slealtà sportiva e alla penalizzazione della Juventus. Vedete come cambiano le cose? Avete visto come cambiano le cose? Quindi non era una plusvalenza fittizia come tutti quanti dicevano e si ostinavano a dire. Era una plusvalenza reale, chiara, spiegata dalla Juventus. Ma la giustizia sportiva vuole mettere in mezzo la slealtà sportiva perché dovevano fottere la Juventus. Non era una plusvalenza fittizia. È spiegato in tutti i modi. Vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio, ad attivare la campanella delle notifiche, a mettere un like se lo ritenete opportuno e fare i vostri commenti. Voglio tanti commenti per questo video che secondo me è molto molto interessante come argomento. Speriamo di aver spiegato bene le cose. Alla prossima.